Il vero disabile è chi ci considera tali. Il corpo è soltanto un involucro, noi siamo la nostra anima. Parole lapidarie quelle di Monica Contrafatto, sincere e piene di speranza, rivolte ad una platea attenta e commossa. È così che la città di Gela abbraccia l'atleta, la sua campionessa olimpica nello sport e nella vita. L'emozione provata in quel momento sul podio è l'emozione che invece stai vivendo adesso su questo palcoscenico davanti alla tua città. Diciamo che nel momento sul podio ero irrazionale, si vede, si vede, è stato bellissimo. Qua sono un po' più razionale, quindi vedere oggi tutta questa gente per me sono proprio contenta. A parte ero contentissima quando ho saputo che Gela mi avrebbe seguito, quindi mi ha spinto pure ad arrivare al traguardo. Monica, quando ti sei resa conto di avere una grandissima responsabilità perché portare colori dell'Italia, della Sicilia, di Gela e soprattutto lanciare un messaggio importantissimo, che cosa hai pensato? Che non potevo fermarmi prima del traguardo, quindi tutte queste cose. In realtà è più il messaggio che tutto il resto, perché in realtà a volte ho conosciuto persone che si sono arrese per molto meno, quindi io penso che magari, così come le mie amiche, così come tutte le parole in piedi, poi alla fine servono a lasciare un messaggio magari a chi sta dietro la televisione e dire va bene, io anche con una gamba in meno, una gamba in più, due gambe in meno, poi alla fine posso fare della mia vita un film, un bellissimo film, così come ho fatto io quando stavo nel tuo ospedale, mentre guardavo la Chironi correre, dicendo che voglio diventare anch'io come lei e così ho fatto. Io spero che qualcuno abbia visto le Paralimpiadi, magari qualcuno che magari a livello psicologico non ce la fa perché magari si sente inferiore quando in realtà non è così, perché comunque il corpo è un involucro, l'animo sta dentro e magari possa dire ok, loro ce l'hanno fatta, ce la voglio fare pure io. Tu sei giovanissima, però hai già vissuto una vita assolutamente avventurosa, con delle esperienze che davvero forse un essere umano non raccoglie a volte in tutta la sua vita. Il momento più bello, il momento più brutto è se rifaresti tutto quello che hai fatto? Allora il momento più bello è quando mi sono arrolata, perché era il sogno mio di una vita e momenti brutti non ce ne stanno perché ogni momento brutto poi alla fine ce n'è subito un altro ancora più bello. Diciamo che quando ho avuto l'attentato ho pensato subito che non potevo fare più il mio lavoro e pensavo anch'io che magari mi sono chiesto adesso e ora cosa faccio. Poi in realtà per quanto poteva essere brutto quel momento subito dopo mi si è aperto un portone con una luce immensa, quindi in realtà ho tanti momenti belli che hanno soffocato quelli brutti. Condividi con noi un sogno nel cassetto, se ce ne sono ancora. Continuare, io poi alla fine continuerò, quindi adesso sarà quello di avvicinarmi più alla seconda. Poi in realtà ho medaglia d'oro, bronzo, d'argento, oppure non medaglia poco cambia, l'importante è che nella vita si fa quello che si vuole e quello che si sogna, io presto sto sognando ancora. Il medagliare è stato molto ricco e uno di questi orgogli viene proprio dalla Sicilia, da Gela. Sì, quest'anno la Paralimpiade di Rio è stata veramente spettacolare sotto tanti punti di vista. Il bottino che abbiamo portato a casa è stato veramente il bottino migliore della storia. 39 medaglie con il nono posto nella ranking mondiale, quindi credo che su questo dobbiamo essere veramente molto, ma molto contenti. Ma credo che la medaglia più importante che abbiamo vinto in queste Paralimpiadi sia stata soprattutto il grande impatto mediatico che queste Paralimpiade hanno avuto grazie al lavoro di gente come voi che cercate di replicare l'eco paralimpico in tutto il paese e che soprattutto ci ha fatto giungere ai nostri uffici tante lettere, tante email, tante telefonate di tante persone con disabilità e non che vogliono avvicinarsi al movimento paralimpico. Io credo che da qui abbiamo quasi, come dire, stravolto un po' la storia e che quindi abbiamo portato a stravolgere quel paradosso che dalla disabilità vista come un sinonimo di incapacità nasce un grande messaggio di abilità, dell'abilità umana che viene esercitata e viene espressa laddove viene data un'opportunità e quindi credo che questo sia veramente il messaggio grande che queste Paralimpiadi e questo evento sta portando. Anche a Gela ci sono delle bellissime realtà sportive che portano avanti i principi, i pensieri, la voglia e la gioia della nostra Monica. Ma sicuramente tutto nasce, ricordiamola appena, 30 anni si compie la prima fondazione della prima società sportiva per disabili e quella ne seguono tante altre. Gela Sport proprio e io ero tra i fondatori e abbiamo iniziato la cultura dell'attività del paralimpismo oggi ma dell'attività sportiva per disabili allora. Oggi raccogliamo un successo che grazie a Monica ha messo anche in risalto i colori della nostra città e quindi ringraziamo lei per aver fatto tanto per questa Paralimpiade. Micica, anche voi lavorate ogni giorno per insegnare ai vostri giovani atleti i principi fondamentali dello sport che poi si riverberano nella vita quotidiana. Questa è un'occasione meravigliosa che noi abbiamo accettato volentieri grazie all'assessore Alicia Bella anche perché è stato un momento di incontro con le ginnaste per poter parlare di Paralimpiadi e quindi sensibilizzarle a questo problema. Anche perché loro lavorano ogni giorno per ottenere dei risultati e questo è quello che a noi conta di più, insegnare a loro che bisogna ottenere le cose lavorando.